La ripresa che state vedendo risale a marzo 2024 ed è da allora che sto testando due bici della Angui, la 275 ST e la 275 PRO. Due bici che raggiungono 25 km orari sono prive del acceleratore e quindi sono legali al 100%. Siete pronti per vederle? Bene, rimanete sintonizzati perché stiamo iniziando. Ciao ragazzi, sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio farvi conoscere due bici apparentemente simili fra di loro ma in realtà nascondono delle differenze, infatti una è la 275 del Angui modello ST, l'altra invece è la 275 PRO. La differenza che già si vede a colpo d'occhio è il fatto che uno abbia il cambio della Shimano con 9 rapporti, l'altro invece ha una trasmissione a cinghia, si vede da questa parte infatti che manca il cambio a una cinghia in carbone, questo significa zero manutenzione. Vi farò vedere le differenze, le caratteristiche, considerate che entrambe le bici dichiarano circa 260 km di autonomia che secondo me sono un po' troppi, si sono tenuti un po' abbondanti, ma comunque si superano tranquillamente i 100 km di autonomia. Un motore centrale, una motore Nanda, l'altro motore Bafang, ma cambiando inquadratura, guardiamole, vi dirò tutte le caratteristiche, vi lascerò il link per poter vedere tutti i vari dettagli ed eventualmente spero anche un codice di scondo. Quindi adesso osserviamole. Facciamo quindi un'inquadratura panoramica di due prodotti, allora sulla sinistra abbiamo il modello P275 Pro, che come vedete ha questa transizione cinghia e motore centrale, tra l'altro anche tre rapporti, ma sono automatici, sono nel mozzo posteriore. Da questa parte invece abbiamo il motore centrale della Nanda e poi il cambio Shimano Altus. Come biciclette sono praticamente quasi identiche, cambia veramente poco, quel poco che serve poi a decidere se acquistare uno o l'altro modello. Questa innanzitutto ha questo manubrio regolabile anche come inclinazione, quindi adatta a diversi tipi di altezze e manca il tubo centrale, infatti ST sta per step through. Da questa parte invece abbiamo un manubrio dritto più basso e poi il tubo nella parte centrale, poi esteticamente le caratteristiche sono praticamente le stesse. Guardiamole quindi più da vicino, entrambe hanno una finitura eccezionale per quanto riguarda la colorazione, gli accessori eccetera. Nella parte posteriore per entrambe troviamo un portapacchi che può supportare che dichiarano 25 kg ma in realtà secondo me sono molti di più, una sella della Sella Royal con un fanalino integrato nella parte bassa, questo però va montato da voi e a proposito di montaggio, la bici arriva smontata come praticamente tutte le bici, bisogna montare manubrio, pedali, parafanghi e poco altro, si fa in pochissimo tempo, soprattutto se c'è esperienza nel montare le bici, si va davvero in una passeggiata, io l'ho messa su un supporto per montare le bici nel giro di 20 minuti, l'ho montata con moltissima semplicità, però continuiamo ad osservarlo, allora questo vano che vedete in entrambe le bici è il portabatterie, quindi l'alloggiamento per la batteria, per tutte le caratteristiche tecniche ragazzi vi metterò le immagini in sovraimpressione e comunque vi ricordo il link per andare ad approfondire ancora meglio, poi guardiamo la parte frontale, per entrambi abbiamo questo faro con una doppia lente e proietta una bella luce, tra l'altro sull'altro modello, sulla Pro abbiamo anche un sensore che accende le luci automaticamente quando fa buio, quindi un sensore di luminosità ed entrambe hanno questo campanello particolare che ormai la Engie sta adottando su tutti gli ultimi modelli, davvero bellissimo, che fa un bel suono, fate attenzione che non poggi da nessuna parte altrimenti non vibrerà e non suonerà, questo è il suono del campanello e poi per quanto riguarda il display sul modello Pro abbiamo un display sulla parte centrale del malubrio, invece sul modello ST abbiamo questo piccolo display sulla sinistra, entrambi hanno 5 livelli di assistenza, però sono due bici con sensore di coppia, significa che dovete pedalare per fare in modo che il motore si avvii, non bisogna faticare in realtà, bisogna semplicemente imprimere della forza e in base all'assistenza che imposterete, poi avrete più o meno aiuto da parte del motore, aiuto che obiettivamente ho apprezzato di più sul modello ST, infatti avendo un cambio a 9 rapporti vi permette con una fatica molto più ridotta di fare percorrere salite anche un pochettino più ripide, mentre sul modello Pro abbiamo questo cambio con dei rapporti molto lunghi, automatico, che non sempre si inserisce nel momento giusto, infatti ho fatto fatica in diverse salite e diciamo che la ritengo più una bici da utilizzare in città e in quelle città pianeggianti, dove ci sono poche salite, qualche piccola collina, ma se dovete percorrere delle salite davvero ripide, vi spiego cosa succede, quando arrivate ad una certa velocità la bici calcola che voi siete a velocità, quindi non è necessario inserire una marcia ridotta e a quel punto percorrerete tutta la salita con un rapporto che non è proprio facilissimo, non è molto leggero, bisognerebbe frenare e poi ripartire, in quel caso sì, allora vi aiuterebbe con molta più facilità, osserviamo anche questa cinghia in carbonio, come vi dicevo zero manutenzione, quindi non ha bisogno né di olio né di altro, non ho sporca, semplicemente pedalate e andate, per quanto riguarda invece l'impianto frenante, per entrambe abbiamo dei freni idraulici, fatti davvero molto bene, che offrono una frenatura immediata e ben modulabile, con dei dischi da 180, sia nella ruota anteriore che nella ruota posteriore, per entrambe cavalletto arretrato, in modo da poter spostare la bici senza avere l'urto tra i pedali e lo stesso cavalletto, ma come avrete notato è priva di sospensioni, o meglio, è priva di sospensioni nelle ruote, però abbiamo una sospensione integrata nel sellino, che tra l'altro è regolabile semplicemente con questa leva, e questo offre anche un'ammortizzazione, perché lo stelo rientra e quindi è molleggiato, si ammortizza quel tanto che basta, poi associato alle ruote di grandi dimensioni, tra l'altro copertone antiforatura, molto molto scorrevole, con pure questa banda che vi aiuta ad aumentare la visibilità, per esempio negli incroci, la sera, eccetera. Ma adesso vediamo la bici in funzione, parliamo in questo caso del modello 275ST, che vi ricordo che raggiunge 25 km rari come l'altra, essendo perfettamente legale e quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo. Come vi dicevo, questo è il motore centrale Ananda, invece l'altro è il motore Bafang. Questo dà un'assistenza con un sensore di coppia che vi permette di percorrere sia tratti stradali pianeggianti, ma anche delle salite senza nessuna difficoltà, perché si adatta alla forza che imprimerete voi sui pedali. Come bici l'ho trovata molto molto comoda, effettivamente, anche il fatto che abbia il manubrio regolabile, quindi adattabile un po' a tutte le stature, è davvero una gran bella cosa. L'unica pecca è il faro che, come l'altro modello, è puntato in avanti, quindi durante le curve, non seguirà la curvatura del manubrio, ma rimarrà puntato comunque, essendo fisso sul telaio. Per il resto, come bici, come state vedendo anche in questa salita, si comporta benissimo. Basta scalare di marcia, essendo dotato di cambio, quindi sicuramente il tragitto e la salita verrà molto molto più leggero. Questo invece è il modello 275 Pro. Una bici diversa dal punto di vista dell'erogazione della coppia. Anche questa è un sensore di coppia, quindi vi aiuta subito, come l'altra. Quando farete la prima pressione sul pedale, partirà senza costringere per fare il solito mezzo giro. Basta semplicemente toccare il pedale per far partire la bici. Però il discorso del cambio, essendo automatico e non sempre inserendo le marce nel modo corretto, soprattutto in salita, a volte può creare qualche piccola difficoltà. Però solo se si tratta di salite davvero molto ripide. Per il resto, per quanto riguarda l'utilizzo e il fatto che il cambio, cambi la marcia, vi aiuta davvero tantissimo. Voi dovete solamente premere sui pedali, la bici farà tutto da sola. Per il resto, nonostante il manubrio basso, io pensavo che questo potesse vincolarmi essendo alto 1,97 m, invece assolutamente. La postura era comoda, anche se il sellino non era dall'altezza giusta. Però mi ha permesso, nonostante le gambe non completamente stese, di percorrere salite come quelle che state vedendo, faticando leggermente. Però quando si è inserito poi il rapporto corretto, quindi ralleggando e poi riprendendo a pedalare, la bici è andata perfettamente. Sia sul tratto di strada perfettamente asfaltato, che sul tratto di strada che vedete più tardi, che invece è un pochettino dissestato. Per quanto riguarda invece la scorrevolezza della bici, pure questa, come l'altra, scorre benissimo, quindi la bici che si può utilizzare tranquillamente, anche senza l'assistenza del motore. E per quanto riguarda la comodità tra sellino e le ruote, che sono effettivamente molto confortevoli, si possono percorrere anche tratti di strada che non siano perfettamente asfaltati. Certo, non è una bici di fuoristrada, però vi permette comunque di avere un buon comfort. Vi faccio vedere anche questo tratto in salita. Qua in realtà all'inizio ho faticato leggermente, si vede che inizia a rallentare, però subito la bici cambia il rapporto e mi dà la possibilità di percorrere questa salita, che come vedete è davvero dissestata, tra buche, insomma strada con manto stradale non regolare, pietre, eccetera, e la bici mi ha permesso di percorrerla molto comodamente. Certo, la mancanza delle sospensioni si sente senza dubbio, però a differenza di bici che sono semplicemente da passeggio, con delle gomme diverse, più sottili, eccetera, sicuramente questa risulta più comoda. Vi ripeto, questa è stata una prova solo per fare la recensione e dirvi le mie impressioni. Sicuramente non è adatta per fare questo tipo di strada, però su questo tipo di strada ho voluto anche provare i freni che avevo già provato sull'asfalto e anche qua si è comportata benissimo, quindi alla pressione dei freni la bici si è fermata e mi ha permesso di arrestarla senza nessuna difficoltà. Quindi è una bici che si comporta bene, un po' da tutti i punti di vista, perché tecnicamente e con i componenti che hanno utilizzato, le bici sono fatte davvero molto bene. Costano, ma effettivamente sono fatte con prodotti di qualità. Adesso accendiamo il display, vi faccio dare un'occhiata, quindi su questa abbiamo questa animazione, compare subito le prime informazioni, poi si spostano i livelli fino ad arrivare a bust che è il livello più potente, diciamo quello che vi assiste di più. Dai comandi sulla sinistra abbiamo la possibilità di mantenere premuto verso il basso per avere l'aiuto, per esempio per spingere la bici in salita eccetera, e questo invece mantenendolo premuto per un paio di secondi accenderà il faro. Come vedete accendendo il faro si riduce la luminosità del display. Qua invece abbiamo un display molto più piccolo e i comandi per poter selezionare il livello di assistenza, accendere il faro oppure avere la modalità per accompagnare la bici mentre la ruota sta girando, li troviamo integrati, si accende da questa parte e abbiamo un display davvero piccolo, come vedete abbiamo le informazioni più importanti, quindi la velocità, il tipo di assistenza che come vi dicevo va cambiato dal tastino nella parte superiore e anche in questo caso arriviamo alla modalità boost che è quella che vi fa stancare di meno, oppure per questo bisogna mantenere premuto il tasto per accendere i fari, ovviamente non avendo un fanale integrato non abbiamo nemmeno la funzione di stop, quindi nella parte posteriore abbiamo semplicemente un sistema che ci permette eventualmente di acquistarne uno aftermarket sia nel primo che nell'altro modello, come potete vedere da questa parte abbiamo delle chiavi e pesce, le troviamo in entrambi i modelli in dotazione, servono per poter sfilare la batteria, infatti si può ricaricare sia inserendo il caricabatterie in questo alloggiamento, sollevandola in questo modo, oppure se solleviamo questa parte, troviamo una serratura, possiamo sfilare quindi completamente la batteria da solloggiamento e poi ricaricarla in casa. Per quanto riguarda le sensazioni durante l'utilizzo, con il modello 275 ST mi sono trovato molto molto meglio, la trovo una bici più facile da utilizzare, più gestibile in base alle nostre esigenze, perché tra l'assistenza del motore e l'utilizzo del cambio meccanico, riusciamo a gestirla anche nelle salite, comunque come bici sono entrambe silenziosissime, quasi sembra di non utilizzare una bici elettrica, anche quando il motore vi aiuta, comunque sono silenziose, si possono utilizzare addirittura senza assistenza, perché il peso è relativamente ridotto, sono molto molto scorreboli e quindi si possono utilizzare come delle normalissime bici se vogliamo allenarci e utilizzare le nostre gambe. Quella è più particolare come utilizzo, non l'ho disprezzato assolutamente, anzi è piacevole, però solo se non dovete affrontare delle salite ripide, se l'utilizzate prevalentemente in pianura, abitate in una città con delle strade che vi permettono di percorrere lunghi tratti senza salite difficili, allora come bici potrebbe essere davvero interessante, girate i pedali, regolate l'assistenza e fa tutto da sola, poi vengono vendute in diverse colorazioni, addirittura pure con il vano della batteria di colore arancione, sia di colore grigio, antrecite, che di colore bianco, insomma, sono delle colorazioni varie, particolari, particolare la bici, particolare nella forma, particolare anche le colorazioni, comunque sono delle bici che hanno un prezzo importante, non costano pochissimo e quindi va valutato bene l'acquisto, per questo voglio spiegarvi bene come mi ci sono trovato, perché dovendo affrontare una spesa di questo tipo dovete capire bene innanzitutto la differenza tra i due modelli e poi se il tipo di utilizzo che vi ho descritto può andare bene per le vostre esigenze, commentate qua sotto al video, datemi le vostre impressioni, se il video vi è piaciuto cliccate anche sul mi piace, ricordatevi però di guardare se volete comprarle, se c'è il link qua giù con il codice risconto, dopodichè vi iscrivete anche al canale se vi piace e se volete cliccate sulla campanella, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto il video fino in fondo e darevi appuntamento a tutti i miei prossimi video, ciao da Riccardo e a presto!